Tutto pronto, partiti i cavalli della quarta corsa. Buona la partenza di Orlean, ancora più veloce all'interno che TJ intenzionata a farsela davanti, almeno era così inizialmente, poi si ritrae. Comunque le due hanno dato vita al primo parziale abbastanza veloce. Dall'esterno cerca di far partenza anche Circus Ring che comunque subito converge pur garoppando in una fascia centrale del terreno. Terza posizione per Orlean che si ritratta in quarta, la giubba gialla del favorito che è quella di Kaed a precedere quella verde. Invece Tritigum vulgare, poi Don Stommeran che ha al suo esterno anche Catherine Piper e tutto il resto del gruppo chiuso anche da Dangerous Dream. Cavalli che hanno rallentato nella prima parte della curva con ancora in vantaggio Katie Jane nei confronti Circus Ring, questi due che procedono a coppia. Poi Orlean, Kaed, ancora Tritigum vulgare, Don Stommeran, poi Catherine Piper a precedere Dangerous Dream, Secret Garden e ancora Orthos con Katie Jane che si è presa allo steccato quando mancano 450 metri da percorrere. Circus Ring che dal centro della pista cerca di emergere nella sua scia, c'è Kaed. Poi ancora Orlean con Tritigum vulgare, Orthos che si avvicina minacciosamente ma qui siamo a 300 dal palo. Katie Jane leggero vantaggio nei confronti Circus Ring, ci prova Orlean, ci prova soprattutto Kaed, 4 cavalli virtualmente su di una linea con Circus Ring che è braccato all'esterno da Kaed, all'interno da Orlean con Kaed che passa il leggero vantaggio. Kaed che sigla nei confronti Circus Ring e Orlean. Questa almeno è la nostra idea di base. Rivediamo lo stretto per capire ancora meglio se è andata veramente così, ma se è accesa veramente una bella lotta tra 4 cavalli che poi sono diventati 3. Kaed dall'esterno ha dato il primo attacco a Circus Ring, lo ha superato certamente, vediamo se quest'ultimo è tornato. Direi di no, Kaed, 9 al primo posto, vince da favorito, 2,72 Mario Sanna in sella, doppietta per i colori di Gabriele Mancusi, doppietta per Luciano Gabriele Bietolini, 9 al primo posto, 1 al secondo, cioè Circus Ring, al terzo il 6 Orlean, 9-1-6. È un ordine d'arrivo ufficioso, numerico probabile della quarta corsa. Diciamo un'ultima cosa, perché è della vittoria numero 5 in 40 corse disputate. È tutto. Grazie. 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 Grazie.